Mr. House Trend Mr. House Trend, abbigliamento uomo-donna Mr. House è un marchio rivolto a un pubblico giovanile e moderno La raffinatezza e l'attualità del prodotto sono il frutto di un appassionato lavoro che partendo da una sofisticata ricerca stilistica trova applicazione nei capi indossati in tutti i momenti dell'uomo e della donna giovane T-shirt, maglie, cappotti, giacche e abiti da cerimonia in un'ampia varietà di colori, varianti applicazioni Mr. House Trend, esclusivista assoluto per bagheria delle migliori marche per uomo come Umberto Zebra e Chemich e per donna come Nemo SOA e ancora accessori Laura Biagiotti Hollywood Milano e solo soprani Vienici a trovare a bagheria in via Luigi Sturzo numero 5 telefono 091 900 208 Mr. House di Tony Aiello solo da noi trovi il vero Made in Italy capi esclusivi originali e di vera tendenza Mr. House Trend Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti